Ciao sono Macross e ritorniamo sempre qui su Black Meat Wukong, nel cercare sempre questi boss segreti visto che vi fa piacere ho notato che c'è una parte che non avevo naturalmente fatto, un percorso che non avevo fatto che ci aiuterà naturalmente a sbloccare anche altri boss segreti per cui ce lo andiamo a fare. Partiamo dall'altro superiore praticamente io non è che non l'avevo fatta ma in pratica c'era una zona che questa parte qua l'avevamo fatta ma praticamente... aspettate... ok questa parte qua non l'ho fatta praticamente qua dovevamo scendere dovevamo scendere poi non sono più sceso e quindi è come se l'avessi messa e non è una cosa buona quindi magari c'è pure qualcosa che ci siamo persi vabbè vediamo un po tra l'altro ci stanno anche abbastanza rompendo le palle allora siamo scese andiamo di qua vediamo che c'è tutto che sta rompendo le palle o da questa parte ma qua per esempio un macello a parte ci volessimo mettere a fregarceli tutti io capisco che magari può essere una cosa buona una però direi che forse è meglio pagliare un po' tipo ci prendiamo questo che ci può servire se no questi ci fanno perdere non sa un sacco di tempo certo dovrei... secondo me questa è la stessa strada no arriva il fatto che mi rompono sempre le palle queste qua allora questo me lo prendo eh no qua è troppo alto andiamo da questa parte che dovrebbe essere abbastanza simile non me li blocchiare ogni volta ok 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 Incredibile come Che ci abbiamo Ok è andato Però che palle Ma qua Eh Ha visto Ha visto Lo so Vediamo Vediamo di curarci Ma perché non l'aveva fatta Ma perché non l'aveva fatta Ma perché non l'aveva fatta Ma però Mi sono mirato un sacco questo Perché lo sto usando Perché ti dà Un sacco una mazza È forte Molla 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 Bella questa Guarda Eh ho capito Che mi stanno fregando Aspetta Ce lo so Abbiamo sta roba addosso Ma che brutta zona questa Mamma mia Occhio Ad un momento che mo Mi ricordo Beh questo ce lo becchiamo sicuramente Ah ok fantastico Poi ci mettiamo a meditare È una zona che non abbiamo visto Perché francamente io Quando ho visto una parte del video Ho detto È nuova Mai vista Infatti questa è male Che non l'aveva sbocchiata È una parte che non è un po' Completamente Visionato Ma niente Quattro scintille abbiamo Vabbè con calma Ce le gestiamo Le scintille Purtiamoci questo Dobbiamo andare là dentro Allora riposiamo Siamo completamente inguaiati Lago dei frammenti E poi dobbiamo andare là dentro No Quindi è l'angoscia Vabbè che tanto poi se cadiamo Stiamo qua vicino Non ti stanno con bene Vabbè andiamo qua dentro Stessa cosa pure qua Perché vedo che Mi voglio bene Ma Non mi sembra Volo al chiaso Di mettersi da applicare A fare queste cose No 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 Ok Oh In questo modo Non mi sembra 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 Alcino No 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 Bello questo, proprio bello. Speriamo che sia anche altrettanto... Mi hanno mai lanciato? Speriamo che è buona... No. È buona questa! La dovremmo fare. Qua se riusciamo a... Questo è quando riusco il mio pieno mestiere! Armatura è bella! Passiamoci a me e facciamo un po' roba tosse! Allora, ho un momento che non ho capito... Ah no, noi di qua la siamo andati, sì! Ok, quindi che facciamo? Torniamo indietro, ma da qua, sì! Qua non ci sta niente, aspettate! Potrei essere sicuro che non ci sia niente... Torniamo... Torniamo indietro? Sì! Poi ritorniamo al coltello dell'illuminazione. Qui ci siamo praticamente già stati... Perché... Se vi ricordate bene... Infatti questi qua... Non ce li facciamo... Eravamo arrivati a un punto in cui... Eravamo entrati tipo una sorta... C'era uno spiazzo e c'era un albero... Tutto grosso! E francamente... Io ve l'avevo anche già detto... Che secondo me lì avremmo trovato qualcosa... Perché... Era strano che... Non ci fosse praticamente... Niente... Molto strano... Che non ci fosse niente... E infatti è là che dobbiamo andare... Che ci stava... Qualche cosa... Dovevamo comunque... Pregarci... Non è di qua... Non è di qua... Sì... Questa parte qua... Pensavo la ricordate no? Qua non troviamo niente... Qua non troviamo niente... Ma... Mi ha dato... Armi roti... Ora... In compensazione... Vado a dirmi... Vado a dirmi... La nostra tecnica... Senta la stessa... Questa parte... Quello che ha volto funziona... Vado a dirmi... Vado ad ecc... Vado a dirmi... La fa parte del gioco... Quello che ha voluto via... Che va è... Allora... Che va è successo... In erba è successo... Che va è successo? Questa è successo... Allora, queste cose mi fanno incazzare perché non si è curato Che cazzo Avanti Ecco qua Vedi ora c'è mai un escegio di questi saccani Ha 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 Vedi ancora che quest'era Ancora il cattore A me ha capito Il miozhazzo era una causanza Nel cattia Ah Ben, ti sei t'as formato? Ok andiamo! Buona buona! Dovritte che cedere, non cedere! vediamo se ci riusciamo a curare si si niente non vedo niente va bene andato ma c'è tutto pensato che fosse il più forte siamo sempre secondo me a un livello nettamente super 2 la scintiva c'è porca? no qua l'avevamo già vista non c'era ci stava niente questa è una zona nuova perché qua non ci siamo no area nuova proprio completamente comunque la grafica è sempre benissima mamma mia spero vi dico la verità montagna nella nube viola vi avrei la possibilità di poterlo giocare provarlo almeno e su ps5 perché francamente non c'è non c'è non c'è Grazie a tutti. 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 No, non riposo nemmeno perché tanto non abbiamo neanche combattuto, non riposo niente. Grazie a tutti. Allora... Dove si va di qua? Dove si va di qua? Ok, ok, ok. Allora... Che cazzo non si... Aspetta... Sto morendo. Ti curo pure che è meglio perché... Sai che sto morendo? Sto morendo? Sto morendo. Sto morendo. Ok, è andata. Penso che ci potrebbe anche venire addosso, eh. Peccato che sti cosi... sono praticamente tutti utilizzati perché sennò... Sto morendo. E' andata, è andata. Ok, qua non c'è niente. Quindi secondo me la strada sarebbe quella la che è stata, eh. Questa. Ma Kosten se stanno altri... No, non vado su questo. Av 108. E' unfendite! Questa ne sta già un altro, eh che sa... E di lì ti sapete thrusti? questo è interessante però io non penso che sia una parte che non si potrà ripercorrere secondo me quindi facciamo così risaliamo di qua infatti lo sapevo che qua avremo beccato come come now about a quick death with my stinger you tort face monkey now leave while you can lo scorpione sopravo ma ci dai qualcosa no? amici di noi non ci hanno dato niente ora, affidati la tua scuola Ok. 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 E dai che lo stai becchiando, ma che fanno? Occhio! Forza puttana! Ma fottuto! Cannaccia! Questo è forte! Indipendente da... E dai che lo stai becchiando! E dai che lo stai! E dai che lo stai becchiando. No! Oh, che buona? Ok Ok ma poi c'è capo di città avanti Nooo ma fanculo Non ti sei curato No che questo funzioni Quindi quell'altro Mi sembra funzionare meglio Ok No Guarda mi ha curato e mi ha becchiato Nooo Nooo Guarda qui guarda qui guarda Fanculo veramente Scusate ma porca miseria La roba ci avrò giocato perlomeno Trenta no ma Ma 15-16 forse quei di più Mamma mia ragazzi Ha murito mortale Porca di quella miseria Oh Gesù Mamma mia raga Moriva mai Moriva Che cazzo è sta murito mortale Fiaspo Ma moriva mai Non moriva mai Non moriva mai Mamma mia Dopo la bellezza di un'ora e un quarto Solo qui un'ora e un quarto Solo qui un'ora e un quarto Tra l'altro poi C'era un'altra zona Alla che non abbiamo visto Questa è una zona Particolare Vabbè Allora Voglio vedere Mark Mark Quale c'è Un monk Vabbè Questo è facile Ok Impossibile che sta per l'altra Tra l'altro poi Un ponte È una zona strana questa Voglio capire se è tipo Ecco Qua Che c'è qua Veramente Quello che si sta rompendo le palle È quello sopra l'albero Ok Vediamoci sta pillolina Vediamo di capire se Possiamo riscendere Risalire Dove stavamo prima Che non ho ben capito Se abbiamo fatto il giro Ma io presumo di sì Eccolo qua Io capisco Che siete nervosi Oh ma è andato un calcio Sì Ok Vediamoci questa Non ho capito Perché praticamente Sembra una zona diversa Dove stavamo Ma che c'era forca Sto completamente perdendo Andiamo di qua Cosa c'è Noi siamo andati All'altra parte E' corretto il fatto Che non mi ha per attaccato Insieme Questa cosa mi fa molto piacere Almeno se ne è stato Ricordato Dopo Riposiamoci Qua non ho capito Che cavolo Stiamo becchiando Continuo a risalire Vediamo chi c'è Poi eventualmente Vabbè Perché non ho capito Se la signora Si riferiva proprio a questo O da un'altra parte Penso a questo Il resto Come ci si ne mi ci Signora Non ho capito Non ho capito Speri Vabbè Che il più Quelle Quisate Si Vabbè Speri me of the venom's touch, as the worm also beset you. An oddity thrives here, the armor worm. Consuming its eggs grants great power. Yet once the larvae hatch, they devour your insides, leaving an undying husk. My fellow disciples, hungry for power, consumed those eggs. And now, most of the beyond remedy. Insalvabili. Young Master, if you will, end their suffering in my stead. They were my fellows. I can't. Vabbè, io non ci riesco. Ok, andiamo qui. Ah, gli devo portare pure le uova. Ah, qua dentro forse devo entrare. Aspettate, vediamo se qua... Occhio. Eh, allora sta là dentro, sta proprio tranquillamente, sta là dentro. Qua dove si va? 별로 così. hoard tengo. Yeah, a seconde Show, ah. Where so am I? That somefactor is. Oh. che palle però ti metti lontanissimo ma è morto che tortura di paolo siamo fregati a tutti e questa me la prendo e allora andiamo vabbè andiamo prima là dentro poi scendiamo io penso che qua incontreremo la bestia di satana parca miseria qua però quando si incominciano a diramare 50 strada ok ma se qua ok allora di qua si va pure mamma mia ma che è un imprese stavo che era una cosa facile no no una cosa così lunga andiamo di qua è facile è diventata lunghissima ok un tocco lumbi dappertutto fatti il giro eh bene a piacere allora vado a sinistra sì ok questa sono usciti greco grazie solo ok bravo ragazzo fate sempre un piacere qua si sale magari qua dentro non è un buono è morto non è morto ok ok vai veloce cazzo veloce sempre sempre tre giorni per curarsi ok allora si sale andiamoci vengono ancora sta roba addosso eh e non mi re non mi rende ancora oh vi ringrazio non mi viene ancheBlode ok ok a un momento che non sto capendo niente no perché abbiamo fatto il giro devo andare da questa parte abbiamo fatto il giro dall'altra parte siamo arrivati all'altra sfonda ok mamma mia raga ma che vediamo un po quasi sale vediamoci questo tutto un attimo a questo sto per questo però facci credito io sicuramente penso che dovremmo salire le scale e andare qua però questa è cattiveria se lo possiamo permettere a voto grazie sempre un piacere andare a voto vada a voto vada il colpio a voto c'è sempre un piacere proprio allora qua non ho capito qui grazie era giusto per avvelenarci praticamente veramente grazie allora andiamo un attimo ma penso che ci stavo semplicemente no va bene la voce c'è stessi una velena no ok ha fatto il giro all'altra parte quindi ritorno su un'altra volta abbiamo fatto il giro da giù là era il vigolo dove avevamo beccato pure la volontà chi ritorna su di qua questo è l'unico dubbio e ce l'ho sul tratto lì che non abbiamo fatto però veramente madonna penso che forse siamo arrivati grazie No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.